Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi faremo la recensione del Putty Party Crystal Glass Super ASMR Che non ho capito ancora che cosa significa ASMR Perché io Ormai con gli slime sono una nuova E poi Due volte mi sono usciti dei fail Però adesso con gli slime Ma vabbè perché poi ci sarà un nuovo video Però non è solo questo Andrò a farvi vedere Ma anche La fake In bustina Che si vedevano già Quindi potevo scegliere Sì questa è fatta bene Però l'unico problema che non avevamo notato Le braccia E abbiamo trovato insieme Due paio di occhiali Uguali Perciò ho preso questa qui Perché aveva due paio di occhiali E costavano poco E una collettina Invece questa qui è solo questa Ma mi sa anche il biberon Aspetta aspetta Vado a prendere una cosa E anche una carta di quelle lì Carta sasso forbici E come me contro te Fanno carta forbici a pietra Che poi alla fine sono telepatici A proposito di me contro te Dopo ci sarà un video Con una sorpresona Perché non vi dico Che è arrivato qualcosa in ritardo Dall'edicola Scuola Team Trote Avete capito bene secondo me Però adesso andiamo a vedere Fatti cristallo glosso super ASMR Non si allunga tantissimo E poi Cosa di che sa l'odore Da 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 Di tachipirina Non voglio fare pubblicità Ma è veramente Di tachipirina E poi non si allunga Guardate Si spezza di solito Però una volta A casa di mia nonna L'ho fatto allungare tantissimo E si è allungata Guardate E lo sapete che so fare Prendiamo la pasta Non si vedrà quasi niente Lo so Dopo allora Non perdetevi Il prossimo video E seguitemi Sia qui su Su YouTube E anche su TikTok Mi chiamo Zucod In effetti Lì ho tanti amici Cioè non ho tanti amici Ho una G No Due Due E Ecco facciavano appiattire Qui Andiamo poi Le cuginette Che erano a fare Quel video Del cotton squishy Nel mio contro te L'ho fatta diventare E io delle trote Perché Gli ho fatto vedere I video Deve contro te E gli piacevano Guardate Non vi voglio aspettare Vedete qualcosa Sì c'è la luce Lo so Mamma mia Odor di vita Tipilina Vabbè mettiamola a posto Però Guardate Come video Come video su Instagram Che dice L'alue Nel video Quando hanno fatto Fluffy slime Allora Il video è finito E Ciao Ciao